Agost Carter mi chiede se esiste realmente la reincarnazione, perché la Chiesa asserisce dire che vi è inferno, purgatorio e paradiso? Caro Agost, credo che la maggior parte dei messaggi che sono stati insegnati dalle scritture non sia stato compreso bene dalla maggior parte delle persone. Inferno, paradiso e purgatorio esistono nel momento presente, ora. Non è che devi aspettare tra l'allero, tra l'allà di schiatà per andare nell'inferno, nel paradiso, nel purgatorio che descrive il buon Dante Alighieri. No. Se tu fai del male, agisci male, il tuo inferno lo crei nel momento presente, adesso tu stai male. Tant'è che se ti arrabbi, stai male tu. È come se tu bevessi un bicchiere di cicuta. Questa rabbia crea il tuo inferno adesso. Se tu fai beneficenza, fai del bene, stai bene adesso, hai creato il tuo paradiso adesso. Non fra cento anni. La sasta la morte, la reincarnazione, la sasta tutte queste robe qua. Pensa adesso, fai del bene adesso, perché stai bene adesso. Il non prendere una decisione ti lascia in questo stato di purgatorio, di apatia totale. È come essere in balia delle onde del mare senza prendere iniziativa. Ma che vita è il purgatorio? Ma che vita è? Stai in uno stato di apatia totale. Prendi una decisione. Sicuramente ci saranno dei lati positivi, dei lati negativi nella tua decisione. Ma almeno hai preso l'iniziativa, hai preso in mano il timone della tua vita. E affronta le onde della tua vita. E fallo con buona intenzione. Con l'intenzione di fare del bene, di fare del tuo meglio. Quindi, non importa che cosa dice la Chiesa, che cosa dicono tutti, se è giusto. Perché spesso le persone, quando si confrontano con credenze, teorie diverse, si perdono nell'ego di chi ha ragione e chi ha torto. Ma lascia stare, prendi gli insegnamenti che ti fanno stare bene adesso. Lascia stare chi ha ragione e chi ha torto. Qui la questione non è avere ragione o torto. La ragione è una questione della mente. Fino a quando starai succube di tutte queste regole della mente, entrerai in divisione totale. Perché inizierai a pensare, hanno ragione i cristiani, i buddhisti hanno torto. I musulmani hanno torto, perché hanno ragione solo i cristiani, perché io seguo la religione cristiana. E quindi è così. E con questo non ti sto dicendo di non seguire un cammino. Se sei cristiano, segui il tuo cammino da cristiano, è fantastico, senza occuparti di quello che è il pensiero degli altri, se giusto o sbagliato. Occupati del pensiero che è giusto per te. È giusto per te il pensiero, il cammino cristiano. Segui quello e vedrai che anche negli insegnamenti cristiani avrai gli stessi identici messaggi. Al di là di inferno, purgatorio e paradiso, vedrai che per così come vengono concettualizzati e raffigurati in qualche modo dal buon Dante Alighieri, vedrai che quella roba lì, che ha un senso metaforico, lo raffigurerai nella tua vita di tutti i giorni. Quando tu fai del male a qualcuno, stai male e questa roba qua la puoi sperimentare adesso. Non c'è bisogno di aspettare la reincarnazione o la morte. Tu il bene lo sperimenti subito, il male lo sperimenti subito, l'apatia, il purgatorio, l'inerzia, la sperimenti subito.